Venerdì 19 agosto, buona giornata a tutti dalla redazione di Dinese TV, ben ritrovati in diretta con la nostra rassegna stampa. In primo piano quest'oggi troverete da un lato i danni del maltempo diffuso nel centro-nord Italia anche in Afro di Venezia Giulia, dall'altro le tensioni delle ultime ore per la composizione delle liste in vista del deposito per le politiche del 2022. Partiamo con il Corriere della Sera che in primo piano mette sia il maltempo, appunto come detto, con il vento e i nubi fragili, i due morti in Toscana, danni anche a San Marco, a Venezia con alcune pietre del campanile che sono cadute al suolo, dall'altro anche la Russia che agita il voto italiano, lo scontro tra leader Medvedev dice agli europei alle urne punite i vostri governi, arriva la risposta dal Partito Democratico, la destra tace, la replica di Salvini, solo insulti e questo per quanto riguarda il tema elettorale, dicevamo delle liste, calenda e la sfida aletta, una riforma fatta per caso, il taglio dei parlamentari si analizza, ora che appunto viene messa in pratica con la riduzione dei posti per i vari partiti, quella legge che era stata fatta con il taglio di Camera e Senato. Dal Corriere della Sera ci spostiamo su Repubblica e anche in questo caso c'è l'ingerenza russa come titolo di apertura, la campagna elettorale, l'ex presidente Medvedev agli europei alle urne punite, i governi idioti, letta grave interferenza e la destra tace, Fratelli d'Italia contro la festa dell'unità Bologna, scorretta e il Partito Democratico si farà senza simboli, calenda, mai alleato con i populisti. Nel frattempo il prezzo record del gas, i sovranisti italiani strizzano l'occhio al Cremlino. A centro pagina la foto relativa ai danni provocati dal maltempo, due morti in Toscana, le trombe d'aria nell'agosto del clima malato perché mentre appunto sono tornate le forti piogge nel centro dell'Italia continua l'emergenza incendi nel sud. Di taglio basso, e lo andremo ad analizzare poi nelle pagine sportive, la riconferma per Tambere agli europei di atletica sempre più in alto vince un oro tutto suo. La stampa di Torino, l'apertura del quotidiano, ancora in questo caso il ricatto russo è un rischio per l'Italia. Di Maio risponde a Medvedev che invita tutti gli elettori europei a punire i loro governi idioti. Letta alla CNN dice con Meloni e Salvini, Felici, Orban e Putin, Fratelli Italia contro il salario minimo e le aziende straniere. Poi il tema dei diritti non è femminista, chi limita le libertà. A centro pagina il clima che uccide, un uragano si abbatte su Liguria e Toscana, distruzione e due morti. Ci spostiamo ora sulle 24 ore, i temi economici, il caro bolletto e l'industria al tappeto, lo shock energetico, nuovo record del gas con la situazione che peggiora ordini, lavoro a rischio, dalle fonderie alla ceramica, allarme costi, l'energia aumentata di 10 volte. A centro pagina le compensazioni fiscali in sei mesi crescono di 3 miliardi e poi ancora Genova, le liste di attese e i biglietti raddoppiati, il salone nautico tutto esaurito a un mese dal via. Andiamo avanti con le altre notizie, il fatto quotidiano punta sulle parole di Scarpinato, l'ex giudice di Palermo che spiega il fatto perché si candida col Movimento 5 Stelle, siamo alla restaurazione della politica dei clan, resto indipendente, la giustizia e la questione democratica, i 5 Stelle non omologati, ergo bullizzati. E ancora di taglio alto, andiamo a vedere le altre notizie riprese in prima, l'analisi di Mercalli, dopo la siccità arrivano le piogge che devastano, poi Marcello Pera, Corro con Fratelli d'Italia, sulle riforme parlo con Renzi, il lavoro a Rimini, i salari da un euro ma tutti contro il reddito di cittadinanza, la campagna elettorale contro i poveri. Ci spostiamo ora sul giornale, il titolo in primo piano, piano della sinistra, lavorare meno ma scroccare tutto, mance ai giovani, trasporti gratis, riduzione delle ore di impiego, le risorse dalla patrimoniale sono promesse insostenibili. E poi Germini Carfagna, debutto sull'altra sponda, sorrisi imbarazzo alla prima con Calenda, l'ex ministra azzurra è passata nel terzo polo. E poi ancora Di Maio che supplica gli alleati democratici per un posto in lista lontano da casa, non vuole correre nella sua pomigliano. A centropagina, clima folle, tempeste al nord, roghi al sud, due morti in Toscana, Venezia e danni al campanile di San Marco. E poi c'è una curiosità, Libero Ballo in Libera Finlandia, viva Sanna e il suo party scatenato, la premia criticata per un video che era privato. Andiamo avanti con Libero. Ghedini muore, chiodi a Silvio, gode e fa festa, sempre più in basso, la fine dell'avvocato di Berlusconi a 62 anni apre un festival dell'abiezione a sinistra, la battuta ha combattuto anni insieme a un male incurabile. E poi ancora nel programma del PD, tante spese e tasse occulte, Letta presenta un piano statalista che vuole far pagare ai contribuenti, la Meloni dice, punta invece sul taglio delle imposte per chi crea lavoro. Il manifesto fuori programma, la fotonotizia centropagina è quella emblematica dell'albero che cade su un'auto, in Toscana due morti schiacciati, a Venezia volano tavolini e piovono pezzi del campanile di San Marco, a Genova il mare lancia cabine fin sui binari del treno, ma nei piani dei partiti non c'è alcuna proposta shock sul clima e dissesti del territorio. Lavoro in Russia, destra pericolosa, il PD contro Meloni, il salario minimo è dignità, se vince lei festeggiano Putin e Trump. E poi ancora il taglio basso, il disastro sanità in Calabria, 500 medici da Cuba e non basta, disastro migranti, 110 crisi in mare della logistica e poi il disastro euro, l'inflazione all'8,9%, la recessione è qui. Il foglio invece. Il miracolo dell'ultima generazione dei nuotatori italiani, trasformare uno sport individuale in una storia collettiva, è una lezione per il paese. E poi ai sovranisti Ghepensimi, il sovranismo è un'idea stupida, Draghi continui a svolgere un ruolo per l'Italia, cingolani utili nel prossimo governo, i nostri alleati spero facciano passi verso il PPE, parla Silvio Berlusconi. La verità, il titolo in apertura morto perché vaccinato mentre aveva il Covid, dato giudiziario sciocca, apre le porte e risarcimenti. Magistrato di Siracusa riconosce la correlazione tra iniezione ed eccesso di umilitare. La perizia stabilisce che era asintomatico e che il mix tra la presenza del virus e l'inoculazione gli è stato fatale. Un macigno in vista dell'offensiva per la quarta dose, come minimo bisognerà fare un tampone per accertare la negatività. Meloni maschilista grottesco se diventa premier fatto storico per noi donne, l'intervista a Marina Terragni e poi tutte le balle di Letta e C sulla pandemia, dal triste primato di vittime alle mancate cure, dai piani assenti al balletto sulle mascherine fino alle grandi menzogne e sul Green Pass. La gestione di speranza è stata fallimentare come infatti sosteneva pure Crisanti. Allora veniamo al gazzettino. Veneto, il boom del lavoro. Nei primi sei mesi assunzioni cresciute del 30%, in sette giorni chi lascia un posto ne trova un altro, ma la domanda è cambiata, si chiede più tempo per sé, non più salario. Il nodo degli introvabili. A centro pagina, tornato a San Marco, danni al campanile, volano calcinacci e tavolini. Veneto, stato di emergenza. Poi la truffa del finto stato senza tasse Novax in 700, in trappola la frode ideata da un padovano fino a 1000 Euro per avere la cittadinanza, 12 gli indagati. Continua anche l'inchiesta sulle criptovalute, all'estero i tre registi del grande buco. C'è anche l'anticipazione rispetto all'appuntamento di stasera su Dinese TV alle ore 21.15 con il venerdì del direttore Michele Criscitiello, Massimo Campazzo e Alessandro Pomare ci daranno le anticipazioni sul prossimo turno di campionato. All'interno andiamo ad approfondire alcune delle notizie che abbiamo visto prima sul Gazzettino, a partire dal maltempo con i danni provocati in Veneto, nel nord-est, in ubifragi in mezza Italia. Emergenza, a San Marco cadono pezzi del campanile, buffer anche a Chioggia, in Friuli 400 chiamate e poi le due vittime in Toscana. A proposito del Friuli andiamo a fare il punto di quello che è successo nella giornata di ieri nel servizio di Francesco Colussi. Pioggia e vento forte si sono abbattuti nel primo pomeriggio di oggi su diverse aree del Friuli Venezia Giulia, provocando soprattutto nelle province di Udine e Pordenone caduta di alberi, di cartelli stradali e tendaggi di abitazioni e attività commerciali. In provincia di Udine un grosso albero è caduto nei pressi del Teatro Giovanni da Udine. Ad Aiello si è verificata l'interruzione della circolazione per la caduta di piante sulla carreggiata. Problemi anche a Ronchis dove il vento ha divelto la copertura di una stazione di servizio. Richieste di intervento sono giunte anche nel Goriziano. A Grado molte imbarcazioni sono state costrette a oriento precipitoso in porto. Anche a Trieste forti raffiche di vento e pioggia intensa. Una cinquantina le richieste di intervento ricevute dai vigili del fuoco del comando provinciale, in particolare per alberi caduti, impalcature pericolanti e finestre rotte. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Stessa situazione nel Pordenonese dove i vigili del fuoco hanno ricevuto una cinquantina di richieste di soccorso, principalmente per alberi abbattutisi sulla sede stradale, pali che sostengono le linee elettriche e telefoniche pericolanti e gazebos radicati. I comuni più colpiti in provincia di Pordenone sono stati Sesto Arregana, Pasiano, Spilimbergo, Cordenonese, oltre il capoluogo. E vediamo anche dalle pagine del Gazzettino l'apertura del quotidiano per l'edizione regionale che riprende il vento e la pioggia a mezz'ora da incubo pomeriggio con la provincia flagellata. E poi, di taglio alto, la crisi che colpisce oltre 100 aziende. Lo spaccato del sindacato è una quindicina a quelle che hanno più di un centinaio di dipendenti che sono in sofferenza. A queste si aggiungono anche una miriade di piccole imprese dove l'occupazione è in bilico e c'è chi ha già sfoltito la truffa delle criptovalute, gli NFT e le criptovalute, gli agenti indagati noi in buona fede. La società li aveva rassicurati sull'ultima videoconferenza. Saranno restituiti i capitali. E poi ancora l'esposto di Gemona per quanto riguarda il futuro dell'ospedale cittadino, l'anticipazione sull'Udinese, Soppia Bergamo, tre candidati per sostituirlo. Il coach Boniccioli dell'Apo si sbilancia, la squadra non è mai stata così forte. All'interno delle pagine del Gazzettino andiamo a vedere anche le ultimissime sul fronte elettorale per la nostra regione. Azione, Italia viva, la squadra è pronta e si affida a Rosato. Il deputato uscente sarà capolista alla Camera dove potrebbe pure anche spuntare un seggio. sull'Uni nominale di Porrenone, l'Expresside, Teresa Tassanviol, a Udine, Sandra Telesca, ex assessore regionale. E poi ancora Forza Italia finisce in castigo, per la prima volta potrebbe non avere nessuno a Roma. Sandra Savino, prima nella lista per la Camera, una piccola chance per Franco Dalmas, si chiudono le porte. E ancora il PD, la seracchiani già in pista su asili nido e scuole. Il tema del lavoro e dell'economia, le aziende in crisi, la mappa del rischio di perdere il lavoro. Sono una quindicina le imprese con più di 100 dipendenti che sono in difficoltà, oltre un centinaio le medie piccole che annaspano tra bollette e meno ordini. Salari bassi, inflazione, il mix delle tensioni sociali. Cryptovalute, così la NFT rassicurava i suoi agenti. Nell'ultima videoconferenza con l'avvocato Emanuele Giullini erano stati annunciati l'estromissione di un manager e i rimborsi. A proposito di questo tema abbiamo chiesto una parere ad un docente universitario analista per Federconsumatori rispetto a quello che è successo e a come potersi tutelare in futuro. Quanto è successo? Sembrerebbe molto simile a quello che è successo qualche anno fa, proprio sempre in questi stessi territori per la truffa di Venice Forex Investment, quindi probabilmente si tratta, anche se ancora la vicenda non è chiarita del tutto, probabilmente si tratta di un classicissimo schema Ponzi, cioè semplicemente qualcuno ha tirato, milantando di effettuare degli investimenti, effettuare delle operazioni ultra vantaggiose, ha tirato numerosi capitali, specialmente attraverso il passaparola e dunque raccogliendo una montagna di soldi che poi sono stati impiegati all'estero, in qualche caso sono spariti, probabilmente in misura molto limitata sono stati utilizzati realmente per operazioni di investimento e quindi adesso si è arrivati al punto in cui la società non riesce più a liquidare i fantomatici proventi di questo schema e dunque non riesce a soddisfare creditori e si sono aperti dei fascicoli di indagine, quindi è molto probabile insomma che la vicenda si chiuda purtroppo male per tutti i risparmiatori che hanno impiegato le loro somme all'interno di questo schema. Lo diceva ieri anche il procuratore capo di Porrenone Tito, non sono serviti tanti appelli lanciati in questi anni rispetto al rischio che si cela dietro queste proposte allettanti, ma professore le chiedo, è tutto male il mondo delle criptovalute, dei bitcoin? Per chi è del tutto neofita e non ha esperienze di questo tipo, forse la cosa migliore effettivamente è stare al di fuori di questo tipo di investimenti e diciamo per quello che vedo anche nei casi in cui effettivamente corrispondono degli investimenti reali, perché ricordiamo che le criptovalute in sé poco centrano con quello che è stato questo schema, nel senso che insomma è stato semplicemente uno specchietto per le allodole, probabilmente un investimento che mai è stato effettuato da questo schema, quindi di per sé le criptovalute diciamo hanno, possono avere anche la loro ragione d'essere, no? Tuttavia quello che non va bene e io sono d'accordissimo al 200% con il procuratore, non va bene che le persone vengano da noi solamente dopo aver effettuato questi investimenti e sarebbe bene che consultassero degli esperti e venissero anche per esempio nella nostra associazione prima di effettuare questi investimenti, perché dopo potrebbe essere sempre troppo tardi, no? Continuiamo la nostra rassegna stampa, ci spostiamo sulle pagine del messaggero Veneto, ritroviamo il bilancio rispetto ai danni del maltempo, nubi fragi e vento, due morti in Toscana, danni in Friuli e poi il rientro in ufficio, il 44% preferisce cambiare lavoro, dopo due anni a fine agosto stop allo smart working in regione, il 48% dei lavoratori è per un sistema misto e poi dal PNRR arrivano 27 milioni di euro per le materne e gli asili in Ido in provincia di Udine, le notizie di cronaca, a Lignano insulti razzisti, al medico in servizio, al pronto soccorso, un altro negozio chiuso a Tolmezzo, decine i locali vuoti e poi catturava tartarughe e altre specie protette, è stato denunciato per quanto riguarda poi la vendemmia al Via e in un solo giorno già quattro quintali, quelli raccolti e poi il delitto burgato, il domenico Pecile che ritorna sui fatti di quella volta a Lignano, intervista il killer e subito i cubani mi arrestarono all'interno delle pagine, vediamo dunque anche il bilancio rispetto ai danni del maltempo, alberi caduti e allagamenti, centinari agli interventi, danni sulle strade e vedete alcune delle immagini rispetto a quanto accaduto ieri sul nostro territorio. Per quanto riguarda l'apertura dedicata a Udine Città, andiamo a vedere il tema, è quello dei fondi destinati agli asilini delle scuole dell'infanzia, oltre 27 milioni, i soldi del PNR ai comuni per potenziare i servizi, tra i più richiesti dalle famiglie sono stati finanziati 30 progetti di riqualificazione, costruzione e ampliamento. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria, circa la metà della cifra, andrà in provincia di Udine, l'obiettivo è raggiungere i livelli europei per rallentare la denatalità e aiutare soprattutto le mamme lavoratrici. Dalle pagine di Udine andiamo a quelle di Pordenone con le notizie in primo piano, un caso di cronaca che ieri ha sconcertato parecchio, oltre naturalmente alla truffa delle criptovalute, un indagato socio dell'Accademia di Pordenone, il secondo in ordine di peso nell'azienda, la sede di Via Piave intanto chiusa e deserta. E poi dicevamo appunto il fatto sconcertante, gli abusi su una bambina di 11 anni, allontanamento per il patrigno, l'uomo sottoposto a braccialetto elettronico, è stato vietato di avvicinarsi. La CISL e il coordinamento delle donne chiedono percorsi di assistenza per i minori. Proprio su questo andiamo a vedere ulteriori approfondimenti nel servizio. Violenza sessuale ai danni di una bambina di soli 11 anni, abusata da quando ne aveva otto. Questa l'accusa nei confronti di un uomo di 55 anni, residente in provincia di Pordenone, per cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo ha disposto l'esecuzione di una misura cautelare, già eseguita dalla squadra mobile, che prevede il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla vittima, con il divieto di comunicare con la giovane. All'uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico, una prima misura, per evitare qualsiasi tipo di incontro tra lui e la bambina di 11 anni. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi nel corso di una mirata attività di indagine, in base ai quali si presume che il patrigno possa aver abusato sessualmente della bimba, probabilmente fin da quando aveva solo 8 anni. Nelle scorse settimane erano arrivate diverse segnalazioni alla polizia di Pordenone, riguardo lo stato di sofferenza vissuto dalla bambina, che secondo le sue parole era costretta a fare alcune cose brutte con il compagno della mamma. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone, coordinata dalla locale procura della Repubblica, hanno avviato immediatamente un'indagine. Ed ora ci spostiamo nella Venezia Giulia con il piccolo, l'edizione di Trieste, anche in questo caso i danni del maltempo, i soccorsi in male da Sistiana a Muggia e poi il Bosco Urbano in Portovecchio che prende forma, consegnato al Comune il progetto da 21 milioni, prevede una piazza, parco, piste ciclabili e uno stagno. Sul fronte cronaca invece c'è l'ultimatum dei coreani sui motori Varsila in oa dei sindacati, la galleria di Montebello, il sopralogo di Di Piazza, controlli costanti e poi il platano di Svevo tra gli alberi secolari del borgo Franceschino. Andiamo anche a vedere l'edizione dedicata a Gorizia e Monfalcone. Ed eccoci qua, col maltempo nel goriziano palitelefonici sradicati, a Dolegna, a Mossa e negli altri comuni, si rimane senza la banca, a Moraro, San Floriano, Mariano e San Lorenzo sono le altre realtà colpite dalla chiusura degli sportelli. All'interno l'apertura di Cattagorizia, si parla della legionella al canile comunale, il caldo estremo, il primo indiziato. La struttura rimane chiusa al pubblico per precauzione, nuove analisi di asugi sull'impianto idrico. Ora siamo pronti ad andare sui quotidiani sportivi, siamo alla vigilia della nuova sfida per l'Udinese contro la Salernitana, domani l'esordio in campionato alla Dacia Arena. L'apertura della Gazzetta dello Sport, naturalmente dedicata alla medaglia d'oro di Tamberi agli europei di atletica. Un oro da urlo, salta 2.30, batte tutti, il primo a vincere due titoli continentali nell'alto, ora mi sposo. Il calcio, scrini all'Inter fa muro, il PSG è pronto ad offrire 65 milioni, però la società nerazzurra resiste, lo slovacco potrebbe partire solo per una proposta shock da 90. Napoli, finalmente Raspadori, Spalletti può lanciarlo con Osimene e Kvara, e poi alla Juve, Pogba adesso accelera tra dieci giorni in campo, passi avanti anche per Depay. Il Milan, Pioli, Stella e Record, anche Cappello lo spinge e fa il bis come me. Fiorentina a metà, subito due gol, ma al 20 c'è la vittoria in conference della Viola, 2-0 il risultato. All'interno delle pagine della Gazzetta dicevamo dell'Udinese che si prepara per la sfida contro la Salernitana e in primo piano oggi si racconta Ebosele, l'occasione d'oro, l'Udinese gli affida la fascia destra, Molina è soppi ceduti, butta e fuori, l'irlandese è titolare con la Salernitana. È pronto, arriva dal derby country contro il Milan, ha debuttato in A, entrando a metà ripresa, scrive Francesco Velluzzi e poi l'accordo, oggi rifinitura, Betto Scalpita, il San Daniele ancora sponsor della squadra. È ancora una curiosità, pizza con Beffa per i bianconeri, all'uscita trovano tutti la multa. È successo in via Poscolle. Tornando all'Udinese vediamo dunque anche nel nostro servizio le ultime in vista della sfida di domani. Si avvicina all'esordio casalingo per l'Udinese in Serie A dopo che i bianconeri avevano già giocato alla Dacia Arena la prima gara ufficiale della stagione, quella di Coppa Italia contro la Feral Bissalò. Con la Salernitana però non ce ne vogliono i nostri amici del Garda, sarà tutta un'altra storia, sia perché adesso in palio ci sono punti pesanti, sia perché l'avversario ovviamente è di un altro livello, avversario che tra l'altro già pochi mesi fa venne ad Udinese a fare uno scherzetto poco simpatico per Ere Compagni con la vittoria che diede il via definitiva alla rincorsa della squadra di Nicola che poi pur perdendo l'ultima gara proprio contro le Zebretti riuscì comunque a salvarsi per ottenere i primi punti del proprio campionato sottile, un po' per scelta, un po' per necessità potrebbe cambiare qualcosina rispetto alla gara di San Siro. Davanti a Silvestri infatti ci saranno Becao, Perez e probabilmente tornerà a titolare Biol in vantaggio su Masina visto che Noiting per la nascita del figlio non si è allenato regolarmente. In settimana logicamente se poi dovesse giocare l'ex Watford Masina sarebbe Perez a scalare al centro. Della retroguardia a centro campo nella linea A5 sembra tutto pronto per l'esordio da titolare di Festi e Bosele che senza Sopì avrà una chance importante per far vedere le sue qualità. A sinistra invece riecco Udoge dopo l'ufficialità del suo passaggio al Tottenham in mezzo confermata la cerniera con Wallace, Pereira e Makhengo con Arslan che dovrebbe andare in panchina dopo aver superato l'infortunio alla caviglia. Davanti ancora success Deulofeu con Beto pronto ad entrare. A gara in corso? Nella Salernitana che ha cambiato in parte volto dopo il mercato ci si aspetta di vedere il nuovo arrivato Candreva largo a sinistra nel 3-5-2 di Nicola con Mazzocchi. Dalla parte opposta a centro campo potrebbe essere gettato subito nella mischia l'ex Spezia Giulio Maggione mentre in attacco dovrebbe essere riproposta la coppia Bonazzoli-Botheim dietro l'esperto Fazio guiderà la difesa con Giondo e Broni. Ora sulle pagine del Gazzettino i più e meno bravi Becao dello Feu fatica per Eratiene il reparto in maggiore difficoltà rimane la difesa con Perez e Viol in ritardo Silvestri una sicurezza success uomo assist questo è il punto della situazione da parte di Guido Gomirato sulle pagine del Gazzettino e poi si allunga la partnership con San Daniele sul fronte sponsorizzazioni il mercato soppia Atalanta matrimonio è fatto, Bellerin, Semedo e Rieder sono i nomi caldi per sostituirlo secondo le ultimissime di mercato. Andiamo a vedere in casa Pordenone che cosa accade Buangaloppo, Torrasi verso Frosinone, Di Carlo ruota il gruppo contro il San Luigi i fan preparano il gemellaggio con Lecce, tre gol dei Ramarri al De Marchi amichevole a Dazzano con l'Arzignano. Calcio dilettante, allenamenti congiunti, la FIGC chiede la tassa D'Arz nel primo torneo contro la violenza sulle donne poi di taglio basso, Martinez Rivero e Chitticù mettono le ali Aldiana Group sul fronte calcio a 5 Il basket invece Boniccioli è l'All Wild West più forte di sempre l'allenatore ha digerito la grande delusione patita contro i veronesi prendiamo ad esempio Larmani, Whalen ci serviva, volevo il doppio play ieri ha parlato anche ai nostri microfoni, allora andiamo ad ascoltare il coach dell'app Sì la parola consolidamento ci piace, ci piace molto, è un lavoro che abbiamo iniziato ancora due stagioni fa e che quindi ci fa piacere poter sottolineare che ha già raggiunto livelli di eccellenza dal punto di vista organizzativo. è chiaro che ci manca questo passaggio di categoria che è ricercato indubbiamente non vogliamo crearci troppe ansie e troppi assilli perché questo potrebbe essere condizionante nel nostro rendimento però sappiamo che in fondo dovremo vedere la luce del tunnel quest'anno dovremo essere forti tecnicamente, pensiamo di poterlo essere perché ovviamente la squadra allestita è a livello di nomi la migliore a Udine però dovremo essere forti soprattutto mentalmente e un po' anche se vogliamo prendere a nota la lezione della scorsa stagione dove siamo stati belli e bravi per tutta la stagione però siamo stati un po' con problematiche in finale, io ritengo sempre più mentali che fisiche ecco quindi dovremo essere bravi ad avere queste energie mentali in corso di stagione e soprattutto ai momenti clou. Tenevo presente che in questa stagione avremo avversari mediamente più forti e una formula che ci richiederà praticamente continuità in tutte le partite non ci saranno partite facili compresa a maggior ragione la fase orologio prima dei playoff. Come dato legato agli abbonamenti siamo già arrivati a mille che quindi vuol dire confermare la cifra è raggiunta massima l'anno scorso. Quanto sarà importante la spinta del vostro pubblico? Intanto è giusto sottolineare che siamo particolarmente contenti di questa spinta di campagna abbonamenti perché aver raggiunto questa cifra già ora prima di tutte le ferie è stato un traguardo eccezionale è chiaro che lavoreremo anche nel prossimo mese e pensiamo di convertire ancora più gente sotto questo punto di vista perché crediamo che questa spinta possa essere veramente importante. Quindi ripartiamo da questo e cerchiamo di togliersi le soddisfazioni tutti insieme più numerosi siamo meglio sarà per tutti. Naturalmente il direttore tecnico Martellossi quello che avete ascoltato ai nostri microfoni presenta insieme a Bonnicioli alla conferenza stampa di ieri. Per quanto riguarda lo sport anche con le pagine del messaggero Veneto andiamo a dare le ulteriori notizie sul basket e non solo la stagione del riscatto ecco la strada della Friul Apu questo è il titolo. Per quanto riguarda invece Cividale Pepper sbarca nella città ducale domani la Gesteco comincia la sua avventura. Andiamo a vedere anche le altre notizie con la Tre Rifugi la gara dell'anno Rebus sui favoriti mentre sui motori c'è lo spettacolo nei paesini delle Valli Oborza, Calla e Subit quelli coinvolti sul fronte carne. Enco si ritorna invece sulla finale di Coppa Carni e l'esame superato alla grande anche con la finale a Tarvisio. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata, ci ritroveremo alle 12 live con il nostro notiziario di mezzogiorno e poi per quanto riguarda il pomeriggio alle 16, alle 18 pomeriggio calcio, alle 19 il TG Sport e l'informazione serale seguita dal TG di Porrenone Provincia. In prima serata alle 21.15 il venerdì del direttore con Massimo Campazzo, Michele Criscitiello e Alessandro Pomare per l'anticipazione in news e pronostici sulla giornata di campionato. Grazie a tutti per averci seguito, spazio alle previsioni del tempo e l'augurio di una buona giornata. Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Udinese TV. Nella giornata di venerdì insisteranno fresche correnti atlantiche, sul frullio Venezia Giulia avremo tempo instabile. Annuvolamenti compatti che daranno luogo a nuove precipitazioni sparse e talora intense, si alterneranno comunque a pausa asciutte e soleggiate. Ora uno sguardo più in dettaglio, cosa ci attenderà su Porrenone e Udine. Tempo variabile, come anticipavo, i cieli saranno prevalentemente in un'altra parte di 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 un'altra parte. Nuvolosi, nubi che daranno luogo a nuovi piovaschi, anche locali temporali. Ma nel corso del pomeriggio sera i fenomeni saranno in progressiva attenuazione, avremo schiarite via via più ampia entro sera. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi, valori minimi decisamente contenuti nella notte e al mattino. Il clima sarà freschino. Ora osserviamo cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste, anche qui una situazione di spiccata variabilità e instabilità. A nuvolamenti che daranno luogo a fenomeni si alterneranno a locali schiarite. Il clima sarà freschino, con temperature massime che non supereranno i 25-27 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere quanto durerà restate aggiornati sulla nostra app gratuita Trebimeteo. Trebimeteo